Il Consiglio dei Ministri approva lo stato di emergenza del Molise, ma le risorse finanziarie sono appena di 2 milioni di euro. La Regione aveva chiesto 4 milioni. Non si placano le polemiche che riguardano i 35 licenziamenti all'ipermercato Conad a Capobasso, scontro verbale tra i sindacati e la giunta regionale. Nuovi partner per la rinascita della cantina vitivinicola Val Biferno di Guglionesi, 16 soci della nuova azienda e collaborazione con imprenditori di Israele. Anche il comune di Frosolone si è mosso per sostenere le attività salutistiche delle persone anziani residenti nel Paese, le iniziative sociali ed in movimento. Buon pomeriggio gentili telespettatori. Emergenza a Molise, terremoti, dissesto del territorio, alluvioni e la pesante condizione della viabilità interna. Questi gli argomenti dibattuti stamane a Guglionesi in un incontro promosso dal sindacato CGL e che ha visto la presenza di numerosi amministratori delle aree del Basso Molise interessate dagli ultimi eventi tellurici di metà agosto. Un confronto voluto per spronare le istituzioni locali e nazionali ad attivarsi in materia di prevenzione e messa in sicurezza. Il Consiglio dei Ministri accoglie la richiesta sullo stato di emergenza in Molise a causa degli ultimi eventi sismici, ma di mezzo alla dotazione finanziaria a disposizione. Vediamo il contributo. La Regione, attraverso il suo presidente Donato Toma, aveva chiesto al governo Conte di dichiarare lo stato di emergenza per i recenti eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni del Basso Molise e mettere a disposizione una somma adeguata a sostegno delle persone e delle strutture colpite. La somma richiesta era di 4 milioni di euro, che però è stata esattamente dimezzata dal Consiglio dei Ministri che ha riconosciuto lo stato di emergenza in Molise. 2 milioni di euro perciò per poter operare da subito per completare l'assistenza alle popolazioni. Quell'assistenza già celermente avviata dai primi momenti di criticità e che riguarda la sistemazione provvisoria nelle tente, ma che oggi dovrà, per forza di cose, estendersi alla messa a punto di alloggi veri e propri, sistemazioni adeguate che portino le persone fuori dalle tente. Intanto, le risorse messe a disposizione sembrano davvero poche, soprattutto in seguito alle dichiarazioni ascoltate nei giorni caldi dello sciame sismico, e devono essere sembrate poche anche al Presidente Toma, che ha così dichiarato, procederemo in parallelo alla messa in sicurezza delle strutture pubbliche, operazione questa che potrebbe prevedere anche l'abbattimento di immobili. Daremo inoltre priorità assoluta a quelle scuole che hanno subito danni dal terremoto, visto anche l'approssimarsi del nuovo anno scolastico. Però anche chiarisce che il riconoscimento dello stato di emergenza riguarda l'assistenza alle popolazioni e la messa in sicurezza delle strutture pubbliche. È chiaro, afferma ancora con determinazione, che siamo solo all'inizio di un iter più complesso che porterà la Regione Molise a chiedere ulteriori finanziamenti a sostegno dell'edilizia privata danneggiata dall'evento sismico. A questo punto non ci rimane che sperare in un'attenzione maggiore per il territorio molisano e le persone che comunque sono oggi in sofferenza, mettendo alla prova tutti quegli uomini oggi al governo del Paese che nell'ultima campagna elettorale hanno affermato di sentirsi, essi stessi, tutti un po' molisani. A seguito dell'ufficialità del riconoscimento dello stato di emergenza, il coordinatore regionale della Lega Luigi Mazzuto ha espresso compiacimento per l'impegno assunto dal Consiglio dei Ministri. Il governo nazionale per Mazzuto conferma che il Molise non è una Regione che sarà abbandonato dallo Stato. Nel passato i terremoti hanno lasciato molti residenti per anni senza evitazioni sicure. Dalla politica occorrono misure urgenti per non abbandonare nessuno. Decine di milioni di euro destinati al risanamento di edifici pubblici lesionati dal terremoto ma messi da parte e inutilizzati dalla politica. Il Molise è da sempre una realtà fragile dove si susseguono eventi naturali come scosse sismiche, alluvioni e frane. Il nuovo governo regionale di centrodestra deve trovare le iniziative giuste per non far morire i centri storici abbandonati per le ripercussioni delle calamità. Ho chiesto al governatore Toma e gli altri colleghi di provare per una volta a concentrarsi numero uno sulle aree del cratere che hanno subito il sisma, quindi i 5, i 10, i 15 comuni che hanno subito danni. La seconda di avviare le verifiche sismiche di vulnerabilità non solo di scuole e infrastrutture strategiche ma anche degli ospedali e la terza di cogliere l'occasione per sbloccare tutti i fondi che sono già disponibili e sono incagliati per i terremoti che il nostro Molise ha subito negli anni e che non è solo San Giuliano. Ho ricordato di essere anche Venafro, tant'è vero che abbiamo un centro storico che è disabitato ed è la stessa fine che rischiano di fare i 5-6 comuni del cratere perché se non si interviene in maniera puntuale quei giovani vanno via, io li ho visti perché ho girato su quei territori e in effetti il rischio delle aree interne che si spopolano ancora di più. Dall'84 ad oggi ci sarebbe una cosa che vale circa 80 milioni di euro che non sono mica pochi. Sono fondi che sono stati richiesti, asseverati, ci sono le perizie, tutti chi si aspetta la ricostruzione della casa, gli interventi da fare anche su campanili per esempio pubblici, su compartecipazioni che la regione dovrebbe dare, per esempio il campanile di Larino che in effetti ha problemi, lì esiste già un progetto dove la Curia ha disposto delle erogazioni ma già nel 2001 e poi la regione non ha più seguito quella procedura, adesso quel campanile ha problemi, è sempre lo stesso campanile, quindi ci portiamo dietro dei terremoti da tempo, ecco perché noi dobbiamo renderci conto, ed è stata la conclusione del mio intervento, che il terremoto è un fenomeno naturale, per noi non è un'emergenza, purtroppo noi molisiani siamo un territorio sismico. Restiamo sempre nel tema, la ricostruzione post-sisma dal 2002 dopo 16 anni non è ancora completata, in tale scenario un nuovo possibile ampliamento dei benefici legati allo stato di emergenza, avrebbe come conseguenza il ripetersi di errori già commessi nel passato, vediamo. Mentre si resta in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza per il sisma che a metà agosto ha colpito il medio-basso Molise, sono ancora tante le problematiche aperte sul territorio a causa della cattiva gestione della ricostruzione legata al terremoto del 2002. L'allargamento del cratere anche a realtà nelle quali il terremoto non ha prodotto danni ha causato delle vere e proprie distorsioni che hanno finito per penalizzare proprio le zone più colpite dal sisma, dove ancora la ricostruzione non è stata completata e ci sono cittadini che, avendo subito danni rilevanti alle loro abitazioni, sono in attesa dopo 16 anni dei finanziamenti dovuti per la ricostruzione messa in sicurezza delle abitazioni. Storture che hanno portato alla presentazione di ricorsi alla magistratura amministrativa che ha condannato la Regione per illegittima gestione dei fondi. Una delle nostre prospettazioni all'interno del ricorso, che poi ha trovato conferma a livello storico proprio di recente, con i più recenti eventi sismici, partiva da un presupposto, cioè si diceva che il sisma non ha prodotto quali danni dappertutto, lo si è avvertito anche probabilmente in realtà molto più distanti, non a caso lo si è avvertito anche a Campobasso, a Isernia, comuni della Fondovalle del Trigno. Di sicuro però i comuni del cratere sono stati più danneggiati e più esposti al rischio sismico. Pertanto se un criterio andava fissato per l'assegnazione delle risorse non poteva prescindere dal riconoscimento di una doverosa priorità ai comuni del cratere, che erano quelli che avevano avuto per la vicinanza chiaramente al cratere sismico più danni per il terremoto e che risultavano più vulnerabili, che è quello che si sta verificando in questi giorni, perché proprio la zona sensibile più colpita dal terremoto risulta quella del Basso Molise, ma si prospetta questo allungamento della faglia dalla zona di San Giuliano fino alla zona di Larino e Guglionesi, quindi i comuni più colpiti sono questi. E allora il parametro che noi ponevamo come parametro di rimente era se le risorse non sono illimitate ma sono limitate, in un momento di finanza pubblica anche abbastanza contratta. In base a quali motivi queste risorse sono andate a finanziare interventi lontani decine se non centinaia di chilometri dal sisma, mentre sono stati post posti, cioè rimasti probabilmente senza risorse e senza la possibilità alcuna di intervento, comuni che erano i più esposti, cioè tipo il comune di Larino, che in questo caso le cui popolazioni e le cui unità minime di intervento erano quelle che venivano patrocinate nel nostro ricorso. Possiamo dedurre quindi che gli errori fatti nel passato possono servire da lezione anche per non ripeterli nuovamente? Mi riferisco al sisma di metà agosto. Il problema è uno che purtroppo se l'errore viene tamponato per tempo, le risorse si recuperano e si riutilizzano meglio, ma se le risorse sono state già spese per interventi che sono stati già completati e sono purtroppo esaurite, ci troviamo di fronte ad una situazione dove il danno è evidente, perché i comuni che ancora oggi tremano restano, tra virgolette, senza possibilità alcuna di interventi e comuni che probabilmente hanno percepito in modo molto labile il terremoto si sono visti a segnare delle risorse probabilmente impropriamente, se non illegittimamente. E cambiamo argomento. La consigliera regionale del centro-destra, Paola Matteo, sta partecipando a Trento al confronto nazionale sul tema delle molestie sul lavoro. Paola Matteo ha presentato la proposta di legge quadro contro ogni forma di discriminazione per l'affermazione dell'uguaglianza. La proposta si fonda su tematiche che vanno dalla violenza alla medicina di genere, dalla democrazia paritaria alla cultura di genere. Una avvertenza delicata a quella che riguarda i licenziamenti all'ipermercato Conad della struttura commerciale del centro del Molise. Un botte risposta tra sindacati e il governo di centro-destra che mostra un conflitto e non avvicina la soluzione positiva. I dirigenti delle categorie del commercio di CGL e Will lamentano una certa disattenzione da parte delle figure istituzionali a sostegno delle ragioni dei lavoratori licenziati dalla società che gestisce l'ipermercato Conad all'interno della struttura commerciale il centro del Molise di Campobasso. Una avvertenza di fatto molto delicata ma anche significativa di uno stato di difficoltà all'interno di un comparto che finora sembrava fosse privo di ripercussioni critiche. A stretto giro di nota il presidente Toma interviene a bacchettare i sindacalisti affermando che la sua assenza e quella dell'assessore regionale al lavoro Luigi Mazzuto sono dovute alla norma che vuole un tavolo di gestione della crisi aziendale convocato dal competente dipartimento regionale e che sia un fatto tecnico al quale non fosse prevista la presenza di presidente e l'assessore. Arriva a questo punto la sottolineatura telefonica di Daniele Capuano della Filcams CGL che trova pretestuosa la nota presidenziale perché mostra un distingo assolutamente gratuito essendo di fronte ad una situazione difficile e complessa come le numerose perdite di lavoro implicano ricordando le presenze di presidenti e l'assessore nelle altre regioni come l'Abruzzo per analoghi tavoli tecnici. Necessitano soluzioni vere e concrete percorsi che devono poter essere affrontati con la presenza di tutti specialmente di chi si occupa per natura elettiva della gestione delle cose molisane. Per il dirigente sindacale un tavolo di gestione alla presenza esclusiva di funzionari e dirigenti regionali senza l'apporto reale delle adeguate figure istituzionali non può tradursi automaticamente come esclusivo percorso tecnico ma deve misurarsi con le energie di chi ha voluto presentarsi al popolo molisano per risolvere i notevoli problemi che quotidianamente li affliggono. Un'assenza alla loro che non aiuta i lavoratori licenziati ed una nota, quella del presidente Toma, che aguisce il problema e mostra un conflitto che può diventare insolubile. Siamo adesso alla cronaca. Tre denunce per truffe sono state formalizzate dai carabinieri nelle ultime ore in Alto Molise. Nel primo caso è stato denunciato un uomo di Isernia che dopo aver intascato una somma di 500 euro per la vendita di alcune pedane da un acquirente di Capracotta si dileguava senza consegnare la merce. Simile anche la vicenda di due napoletani che mettevano in vendita online pneumatici per mezzi agricoli. I due truffatori sono riusciti a cedere le gomme ad un agricoltore di Castel San Vincenzo senza poi consegnare il materiale. Dal fallimento alla rinascita la cantina Val Biferno di Guglioni si compie mezzo secolo di vita e riparte da una collaborazione con investitori italiani e israeliani per conquistare il mercato internazionale. Possiamo considerare la vostra una scommessa anche testarda in un momento chiaramente anche di crisi diciamo del territorio in particolare in basso Molise dove hanno chiuso tante aziende. Ecco la vostra una scommessa dal basso che si pone in una linea di tradizione in linea di continuità con la tradizione ma che mira a fare un salto di qualità rispetto al passato. Sì hai detto bene esattamente una iniziativa che parte dal basso quindi proprio da agricoltori che in qualche modo stanno cercando di riportare vita a un territorio che sappiamo bene conosce esperienze completamente negative. Quindi francamente molto sinceramente non pensavamo di poterlo fare se non attraverso una partnership importante attraverso partner che conoscono il mercato che sono già inserite a livello commerciale. Per cui la nostra scommessa è molto legata alla efficienza di questa partnership che abbiamo conosciuto e consolidata e legata anche a questo particolare mercato che è quello dei consumatori di origine ebraica e di religione ebraica e non solo quindi con uno sviluppo anche in termini quantitativi quindi di quantità delle produzioni che potenzialmente è importante. Quando si fa il vino dalla pigiatura in avanti è tutto eseguito dai rabini o i loro delegati per far sì che il prodotto è sicuro. Tanto è vero che poi ogni bottiglia viene messo con un sigillo del rabinato responsabile della produzione. Questo significa che da quando arriva l'uva in cantina c'è sempre del personale delegato dal rabinato presente per tutta la lavorazione, tutte le vasche che contengono il mosto o il vino vengono sempre sigillate in modo che non ci possano essere delle cose che non sono controllabili. Possiamo quindi considerare questi controlli ferrei che avvengono su tutto il ciclo della produzione e della trasformazione dell'uva e quindi poi nel risultato del prodotto finale anche una garanzia in termini di qualità del prodotto? Assolutamente. Ci sono delle cose anche tipo i lieviti che vengono fatti da cose animali che non sono permessi. Perciò tutti i prodotti che vengono aggiunti o i filtri che vengono usati ci sono dei filtri, grandi filtri fatti dal grano. Perciò ho fatto anche di carta che è carta che viene fatta dalla carta. La carta sappiamo che può avere delle cose che non sono permesse per la Pasqua ebraica. La cantina Val Biferno ha riaperto lo stabilimento di Contrada Perazzeto a Guglionesi grazie alla scommessa di 16 soci che hanno puntato sul rilancio della vocazione vitivinicola nel Basso Molise nell'azienda industriale ad ottobre riaprirà il punto vendita per la degustazione dei vini. Invecchiare attivamente attraverso attività salutistiche, sociali e culturali, questo è il pensiero dell'amministrazione comunale di Frosolone che ha aperto le porte in paese al nuovo circolo Hauser. Vediamo. La percentuale di persone anziane cresce sempre di più in Molise. Sono soprattutto i piccoli centri di montagna, quelli dove risiede il maggior numero di ultra 65 anni. I circoli Hauser in Molise sono impegnati a creare le migliori condizioni di vivibilità per i pensionati, ma anche per i giovani. All'Hauser con la loro attività nei confronti degli anziani, diciamo della persona, viene un po' a arricchire tutta l'attività sociale che l'amministrazione sta portando avanti in questi anni. Frosolone è ovviamente come direi tutto il meridione, insomma c'è una fascia anziana molto vasta, per fortuna ci sono anche i giovani, ci sono anche la fascia che lavora, ma sicuramente nella composizione sociale l'anzianità ha il suo valore, quindi bisogna dare attenzione a questi nostri anziani, che poi anche io faccio parte di questa categoria, dagli attenzione nel senso delle attività sociali, delle attività per la salute. Sostanzialmente con l'Hauser noi vogliamo portare avanti un progetto di invecchiamento attivo della popolazione di Frosolone e spero che vengano coinvolti molti cittadini in questa iniziativa. Molto spesso le aspettative dei cittadini è quella per un intervento, per una luce, per il marciapiede, per un'opera di questo tipo, però per tenere viva una comunità occorre fare delle politiche sociali. Cioè molta attenzione a queste fasce della popolazione, non solo anziana, ma anche i giovani, eccetera, perché tutto questo, la socialità, praticamente fa vivere una comunità. Avere costantemente corpo e mente allenati migliora la qualità della vita di tutti, soprattutto con l'avanzare degli anni. La viabilità tra i paesi delle aree interne di montagna è fatiscente per l'assenza molto spesso di investimenti economici e manutenzione ordinaria. Le problematiche delle comunicazioni in Alto Molise e le criticità strutturali del viadotto Sente saranno al centro di un vertice istituzionale, martedì 11 al municipio di Agnone. Per l'occasione sono stati invitati anche a alcuni sindaci della provincia di Chieti. E partiranno oggi nel tardo pomeriggio a Campobasso le iniziative della quinta edizione di Vivi la tua città 2018. Numerosi gli appuntamenti culturali, musicali e della tradizione. Giunge alla quinta edizione la manifestazione Vivi la tua città 2018 che per tre giorni da questo pomeriggio e fino a domenica porta a Campobasso tutta una serie di eventi ed iniziative che cercano il coinvolgimento dei cittadini. Le proposte sono tutte previste nei vari luoghi simbolo della città, il Corso Principale, Piazza della Vittoria, la Piazzetta Palombo, Via Elena, Via Gazzani, Via Roma e Via Pietrunti, il Largo San Leonardo, Piazza Pepe e Via Ferrari, tutte perfettamente inerenti alle tematiche culturali, musicali e della tradizione, senza tralasciare l'eccellenza enogastronomica del territorio. Tra le presenze significative quella della Polifonica Monforte che continua senza sosta nella diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale e musicale di Campobasso e d'Indorni. La Polifonica Monforte quest'anno presenta la novità, tra virgolette, del carro dell'Uva, per ricordare il simbolo, per ricordare la nostra festa dell'Uva, festa dell'Uva che la Polifonica Monforte sta organizzando e che realizzerà il 28 ottobre, ve lo dico in anteprima, il 28 ottobre, l'ultimo anno di ottobre ci sarà la festa dell'Uva, non proprio come quella partita dal 1924, però noi ci auguriamo che tutte le contrade, tutti i paesi vengano di nuovo come si svolgeva una volta. Il nostro carro partirà alle 21 da Villaflora e farà un piccolo giro, piccolo piccolo per il centro, poi si posizionerà alla fine del corso e rimarrà là. Offriremo il vino, il taralluccio, un po' di pane e olio, i nostri semplici alimenti. Per tutto il resto che dire, noi ci siamo, per noi è entusiasmo, teniamo alto il cuore rosso-blu. Festa della Madonna di Canneto oggi e domani a Roccavivara nel programma, eventi religiosi e concerti musicali. Domani a Casacalenda invece torna la Sagra a base di taccozze e fagioli, una delle manifestazioni culinarie tipiche del paese. E siamo adesso alle previsioni del tempo. Accentuazione dei corpi nuvolosi nella giornata di oggi sul Molise, con temporali diffusi nelle zone interne. Le temperature odierne sono comprese tra i 17 gradi di Campobasso e la massima di 27 a Termoli. Quasi calmo il medio adriatico, ventilazione variabile. Soleggiato il cielo domattina sulla regione, valori climatici in pressione, venti da nord. Nella pagina sportiva partiamo dalla pallacanestro. La Magnoli a Campobasso affronterà sul parchè di Civitanova Marche oggi pomeriggio. La locale formazione della Feba in un amichevole precampionato di basket femminile. Palla 2 alle 17.30. Solo da pochi giorni il quintetto del capoluogo ha inserito la Juniores Lucia Mandolesi Play Guardia Ex Porto San Giorgio. La sciamina del Campobasso ai nastri di partenza del campionato di Serie B di calcio a 5 giocherà in amichevole questa sera a Benevento, ore 20, per testare la condizione dopo due settimane di preparazione in vista degli impegni di Coppa della divisione Coppa Italia. A quintetto Molisano si è unito il portiere Andrea Prunti che è anche il vice allenatore e preparatore dei portieri dell'Under-19. In conclusione, nella serata di oggi a Dagnone ci sarà la presentazione della Rosa dell'Olimpia in vista della stagione calcistica in Serie D che inizierà domenica 16. L'evento sportivo rientra nei festeggiamenti della Madonna della Libera. L'appuntamento è stato inserito per comprendere gli obiettivi dei Granata fissati dalla dirigenza dell'Agnonese a seguire il concerto musicale di Gio Valeriani. Con questa notizia è veramente tutto. Grazie dell'attenzione. A risentirci. A questa sera.